Spaventoso incidente questa mattina poco dopo le 7 sulla 2 del Mediterraneo nel tratto tra Polla ed Atena Lucana. L'autista di una bisarca per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del veicolo che ha impattato contro il guardrail. L'urto ha spinto il mezzo ad invadere la corsia opposta e alcune vetture che trasportava sono cadute dal mezzo invadendo le corsie di marcia coinvolgendo altre persone. Per fortuna nonostante la gravità dell'episodio il bilancio è di quattro feriti ma nessuno in modo grave e nessuno sarebbe in pericolo di vita. Tra le persone ferite anche un anziano che è stato tamponato da una vattura caduta dalla bisarca. Immediato l'intervento sul posto da parte dei sanitari del 118 per prestare le prime cure del caso. Sul posto giunti prontamente anche gli agenti della polizia stradale della sottosezione di sala consiglina con l'ispettore capo Rufino Tortora che ha dato il via ai rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Il traffico è stato inizialmente bloccato per diversi chilometri con il personale dell'ANAS che ha imposto l'uscita obbligatoria ad Atena Lucana per chi viaggiava in direzione nord mentre l'uscita obbligatoria di polla per chi viaggiava in direzione sud. Dopo un intenso lavoro a ritmi ridotti il tratto di strada è stato riaperto al traffico a metà mattinata.